ragazzi c'è un cielo che è stranissimo arancione ma di un arancione che non avete un'idea è impressionante porca vacca di solito dicono che quando c'è quel cielo qua arriva qualche scosmo ma è una stupidata però fa un'impressione questo cielo che non avete un'idea mamma mia avete presente quando è così è impressionante è impressionante figo poi anche dipende dagli aspetti generali delle persone a me ad esempio fa molto timore questo cielo qua comunque è impressionante madonna e beh sta vita è la vita la vita è uno schifo adesso e dopo speriamo che negli anni cambi questa cosa qua mamma ma che mail ci hanno scritto che paura ma prima era ancora peggio perché vieni e poi dà anche fastidio molte volte ad esempio a me dà fastidio ma accendevo il cellulare e mi dava fastidio questo qua mi ha fatto un suo passo grande mito via va bene mettete mi piace per questo video grazie a un'altra cosa condividete anche scusate che sto facendo la curva sì ecco condividete e mettete mi piace ciao ciao